informare formare e consigliare è questa la mission di ability group potete considerarci il partner ideale per un aggiornamento continuo della vostra professione giriamo il mondo per scoprire diffondere e valorizzare le tecnologie e le metodiche più efficaci nel settore della fisioterapia e della riabilitazione e siamo orgogliosi di poter mettere a vostra disposizione attrezzature prodotti dispositivi medici ma soprattutto metodi tecniche e docenti di altissimo livello competenze che sono frutto di stretti rapporti coltivati da tempo con istituti di formazione internazionali università opinion leader e aziende costruttrici informiamo delle novità partecipando agli appuntamenti più importanti del settore congressi simposi fieri e workshop ma anche attraverso il nostro sito potrete trovare notizie video sempre aggiornati costante anche la presenza sui social network o sulle riviste specializzate e attraverso l'invio di newsletter vogliamo raggiungere tutti i professionisti più attenti la formazione ci sta particolarmente a cuore perché consente di offrire al paziente il più ampio ventaglio di risposta ai suoi problemi noi puntiamo a garantire un'ottima formazione ovvero quella che permette di conoscere e approfondire le nuove tecniche e tecnologie nel modo migliore ed è proprio con la consapevolezza di essere diventati un punto di riferimento per molti professionisti ma anche per docenti internazionali del calibro di kenzo case bob donatelli didrick sopler alecchè e jim river marie geronimi derry alberto jacky shaker e mike plosky solo per citarne alcuni che noi di ability group siamo orgogliosi di proporre ogni anno programmi di formazione sempre più interessanti ad esempio abbiamo l'onore di aver portato in italia la gaston technique un metodo straordinario basato sull'evidenza scientifica che ha cambiato il modo di trattare le disfunzioni dei tessuti moglie della fascia gaston technique utilizza strumenti brevettati in acciaio che consentono ai fisioterapisti di rilevare trattare in modo efficace il tessuto cicatriziale e le restrizioni che impediscono la normale funzione cinque corsi sold out in pochi mesi la dicono lunga sulla fama che ha preceduto il suo arrivo nel nostro paese la gaston technique è infatti utilizzata con successo negli stati uniti e in altri paesi del mondo da oltre 21 mila professionisti inclusi più prestigiosi college università e club sportivi anche per trattare disturbi laddove altre patologie si siano dimostrate poco efficaci anche il debutto dei frontotix in italia è andato ben oltre ogni aspettativa il passaparola tra i fisioterapisti è stato quasi virale ma la conferma principale arriva dai pazienti che una volta approvati gli straordinari plantari neozelandesi non ne possono più fare a meno il frontotix medical system importato in esclusiva da ability group rappresenta uno strumento versatile comodo ed efficace ma anche dalla straordinaria semplicità di utilizzo fornisce innanzitutto un metodo di valutazione che permette al fisioterapista di interpretare in maniera dettagliata e precisa gli squilibri neuromuscolari ed eventuali disallineamenti dell'arto inferiore i frontotix termomodellabili utilizzano un design unico e un processo produttivo innovativo che permette un modellamento ed una correzione un numero infinito di volte tra i primi sostenitori di frontotix robert donatelli al quale si appoggiano fior di campioni di ogni sport ad ability group il fisioterapista americano ha portato corsi interessantissimi legati anche ai problemi di chi fa della corsa la propria passione ma donatelli non a caso è soprannominato the shoulder man il suo libro è alla quinta edizione i suoi corsi una garanzia per poter trattare la spalla nel migliore dei modi ci sono poi temi innovative molto interessanti come quello proposto da didrick sopler su nutrizione e infiammazione e vere pietre miliari che non avrebbero quasi bisogno di presentazione come il chinesio taping in un mare di tentativi di imitazione l'unico metodo originale quello creato dal professor kenzo case l'unico a rilasciare un attestato riconosciuto in oltre 90 paesi del mondo forte di una ricerca di un aggiornamento continuo noi di ability group siamo sicuri di essere il vostro partner ideale non solo per la vostra formazione ma anche per essere informati e consigliati sulle novità tecnologiche se volete creare un nuovo centro o riorganizzare i vostri spazi con noi scoprirete ad esempio che un lettino non è solo un lettino ma può essere considerato la terza mano del terapista questo è il soprannome che teovo che i sala ha dato al suo manutera oggi con la nuovissima versione 242 ancora più funzionale uno strumento straordinario per l'applicazione di qualsiasi terapia manuale i trattamenti non sono solo più facili e precisi ma vengono eseguiti anche in una posizione ergonomica e confortevole tanto per il paziente quanto per il terapista che utilizzando manutera elimina l'affaticamento e il rischio di patologie professionali difficile se non impossibile descrivere a parole ciò che sta entusiasmando i terapisti manuali di tutto il mondo con noi potrete vedere che è possibile realizzare una palestra riabilitativa in poco spazio e a costi contenuti senza scadere nella scarsa qualità delle attrezzature prettamente pensate per il fitness con la palestra mobile ad esempio ideale per poter proporre la met medical exercise therapy grazie agli accessori facilmente intercambiabili fino a quattro pazienti contemporaneamente possono eseguire oltre un centinaio di esercizi diversi personalizzati e calibrati l'esercizio terapeutico dosato è una terapia collaudata nei paesi più voluti del nord europa tanto da essere prescritta anche dal servizio sanitario nazionale attraverso programmi mirati per il dolore al collo alla spalla e alla schiena che potrete apprendere con i nostri corsi il paziente potrà tenere sotto controllo i sintomi e migliorare le funzioni e la qualità della propria vita e da oggi è possibile dimostrare l'efficacia di un trattamento programmare una riabilitazione mirata e stimolare il paziente verificando con lui i risultati ottenuti con bioval concepito per un'analisi quantitativa e qualitativa del movimento e con l'applicazione di feedback visivo per la riabilitazione grazie alle nuove tecnologie tutto ciò che fino ad ora era relegato alla sola ricerca bio ingegneristica oggi è a disposizione dei professionisti sulla scia di bioval kinapsis è il primo metodo che permette una riabilitazione globale del paziente grazie al sistema rehab gaming che utilizza esercizi divertenti sviluppati specificatamente con scopi terapeutici il biofeedback favorisce la riprogrammazione delle funzioni neuromuscolari e l'aspetto ludico grazie al gioco e alla realtà virtuale incentiva l'applicazione del paziente i differenti protocolli permettono di calibrare e programmare gli esercizi per farli adattare a ciascun caso molti anni fa abbiamo iniziato il nostro viaggio lungo il nostro cammino abbiamo collaborato con migliaia di clienti in un rapporto di rispetto e correttezza abbiamo cercato di accrescere le nostre conoscenze e la nostra professionalità per diventare dei consulenti e dei partner con il costante obiettivo di crescere insieme ai nostri clienti il viaggio continua e siamo certi che il futuro vi servirà a tutti ancora molte soddisfazioni